dopo due anni d'attesa infatti il Napoli tornò in B puntando immediatamente al ritorno nella massima serie intanto però sul calcio italiano si era abbattuta una vera calamità che avrebbe cambiato l'immaginario popolare legato a questo sport era iniziata la stagione di calciopoli Napoli è il gioco del calcio i dribbling come il riscatto sociale di una città un programma di roberto molinaro